Ci troviamo davanti al cartone preparatorio per la scuola di Atene di Raffaello San. Il cartone preparatorio è un disegno che viene eseguito per poter passare il disegno sul muro quando si esegue un affresco. Ovviamente sono sempre di grandi dimensioni e poiché il cartone preparatorio è soltanto un mezzo, uno strumento col quale si passa ciò che si vuole dipingere sulla parete, è un oggetto estremamente fragile, non fatto e non pensato per essere conservato. Questo rende il cartone dell'Ambrosiana particolarmente prezioso perché misura 8 metri per 3 ed è il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto interamente per mano di Raffaello Sanzio. Questo cartone è un cartone ben finito, vuol dire che era un cartone che presentava in maniera assai dettagliata ciò che si voleva rappresentare sulla parete. Probabilmente per due motivi, il primo era che doveva essere approvato da Giulio II, il papa che aveva commissionato la stanza, e il secondo era che Raffaello teneva particolarmente a quest'opera, quasi appunto come se fosse un'opera finita. Il cartone ebbe diverse vicende, arrivò qui in Ambrosiana nel 1610 come comodato da un cugino di Federico Borromeo e divenne però proprietà dell'Ambrosiana nel 1626 quando il cardinale per una somma ingente, la somma di 600 lire imperiali, acquistò il cartone dalla vedova di suo cugino. Il cartone poi rimase qui in Ambrosiana fino alla fine del Settecento, quando dopo l'invasione napoleonica venne portato al Museo dell'Uvra, dove subì un pesante restauro, fu addirittura completamente smontato nei 220 fogli, fu anche ricomposto, fu integrato là dove vi erano lacune e per fortuna però nel 1816 ritornò qui in Ambrosiana. Da allora si mosse ancora due volte, la prima guerra mondiale perché per essere messo in sicurezza venne mandato in Vaticano, dove vi tornò dopo alcune centinaia di anni, e poi si mosse dall'Ambrosiana per la seconda guerra mondiale quando fu ospitato nel cavo della Banca d'Italia. Generalmente questo è conosciuto come il cartone della scuola di Atene, l'affresco che è nella stanza della segnatura in Vaticano. In realtà all'inizio, quando fu pensata, questa stanza non era stanza della segnatura, ma doveva essere la biblioteca privata di Papa Giulio II. Il progetto iconografico della stanza, interamente eseguita da Raffaello, era molto complessa e probabilmente non fu frutto solamente dell'intelligenza di Raffaello, ma fu un lavoro d'equip tra le migliori menti e i migliori intellettuali della corte di Giulio II. Per la biblioteca si era pensato di avere quattro lati, su ogni lato una disciplina. Ecco allora che il lato della scuola di Atene in realtà è la parte dedicata alla filosofia. Interessante vedere anche come Raffaello scelga di raffigurare alcuni personaggi con le sembianze di personaggi assai noti. Per esempio il volto di Platone sembra proprio essere quello di Leonardo, il volto di colui che sembrerebbe rappresentare gli orfici è il ritratto di Fedra in Ghirami, probabilmente uno dei pensatori del piano della stanza. E poi abbiamo il ritratto di Bramante in Euclide. Ci sono quindi molti personaggi che possono essere riconosciuti e anche tra i filosofi noi abbiamo molti filosofi identificabili, come per esempio Socrate, abbiamo Diogene sulla scalinata, secondo la narrazione Diogene Laerzio. Ci è Zoroastro, Ptolomeo. Ed è interessante vedere come manchi nel cartone la raffigurazione di quello che viene generalmente visto come un omaggio a Michelangelo. Ci sono anche delle differenze tra il cartone e l'affresco. Innanzitutto vediamo che al centro manca quella che viene identificata come la figura del pensieroso, che molti dicono avere il volto di Michelangelo. Io non sono molto d'accordo sul fatto che questo sia il ritratto di Michelangelo, ma senz'altro questa figura è un omaggio alla pittura di Michelangelo, perché la struttura, la costruzione della figura è sicuramente ispirata a come Michelangelo costruiva le sue figure. Pare essere stata aggiunta nel 1511, quando, secondo quanto ci dice Vasari, Raffaello fu portato di nascosto da un amante a vedere la Cappella Sistina. M Grazie a tutti.